Ben trovati amici di Romevv, eccoci qua con un nuovo unboxing e come da titolo vi vado ad unboxare la terza stagione di Star Trek Discovery distribuita da Coach Media per Paramount Pictures in versione Steelbook. Ovviamente è presente anche il famoso fogliettazzo con tutte le informazioni, possiamo notare che ci sono anche oltre due ore di contenuti speciali. La qualità video-audio è ottima e all'interno ovviamente abbiamo quattro bei dischi Blu-ray e c'è anche una bella immagine interna per questa bella Steel. Vi ricordo che al momento è uscito solo in Steelbook, ma probabilmente se state collezionando la versione Amarai, probabilmente nei prossimi mesi uscirà anche la versione Amarai di questa terza stagione che vi straconsiglio. Tra l'altro la serie la trovate disponibile su Netflix ed è veramente notevole, straconsigliata. E questa era la Star Trek Discovery stagione 3. Come al solito ragazzi se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate sempre la campanella per restare aggiornati. Questa Steelbook è disponibile un po' ovunque, vi lascio il link in descrizione di Amazon e di Woody Store. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao a tutti!